Abbiamo creduto nel Signore. Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici! Accogliamo la parola del Vangelo. Oggi è la festa di Tommaso, chiamato Didimo, e leggiamo quindi Giovanni 20, 24, 29. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. A me. Cari amici, ringraziamo la liturgia che oggi ci propone la figura e la persona di Tommaso, uno dei dodici, che ci regala un'esperienza bellissima. Noi potremmo vederla come una brutta esperienza, anzi, di incredulità da parte sua, ma in realtà in lui, in questa condizione e situazione di incredulità, poiché la prima volta che Gesù è apparso ai dodici lui non era presente e non ha creduto agli apostoli che gli hanno poi detto abbiamo visto il Signore, ecco che aiuta a noi a vivere la nostra quotidianità, la nostra fede. Proprio perché ha detto se io non ci vedo, se io non lo vedo concretamente, se non metto la mia mano lì dove aveva le ferite, se non vedo il segno della crocifissione, io non crederò mai. Quante volte noi siamo proprio così, poniamo dei se nella nostra vita, tante, tante condizioni per credere. Signore, se Tu intervieni allora io crederò in Te, se Tu aprirai quella porta allora sì, inizio a pregare, se Tu mi benedici nel mio lavoro allora vengo a messa e tante altre cose. La nostra vita molto spesso è condizionata da tanti sé, in realtà è condizionata dai nostri stessi limiti, dalla nostra lentezza nel credere, dalla nostra pigrizia potremo anche dire nelle cose di fede e in gergo teologico si chiama acidia, pigrizia spirituale, lentezza nel credere a Dio. perché il mondo è pieno di acidia? Perché noi cristiani, noi che siamo stati battezzati, che abbiamo creduto, abbiamo ricevuto la fede dei nostri padri, perché noi siamo pieni di acidia? E cioè non crediamo. Come mai noi viviamo spesso nella tiepidezza, nelle incertezze, nelle perplessità e non ci vogliamo affidare a Lui. Ma Gesù lo ha detto ai Suoi discepoli, proprio qui nel Vangelo di Giovanni, pochi capitoli prima, poche ore prima, voi siete nel mondo ma non siete del mondo. attenzione perché nel mondo chi vive nelle tenebre cerca di oscurare la vostra vista, tappare i vostri orecchi, perché voi non vediate la presenza del risorto, perché non vediate, non ascoltiate le parole di Gesù e non crediate che siano vere. Rendiamoci conto a livello spirituale che vivendo nel mondo siamo continuamente assediati, circondati a partire dallo smartphone, da cellulare, da internet, da tutta una situazione generica sociale che ha deciso di allontanare Dio dalla nostra vita. Dicendoci non vedi Dio, non c'è. vedi la guerra, la pandemia, non esiste Dio perché se esistesse sarebbe intervenuto. Eh, com'è possibile che non interviene? Questo ci dice il mondo. Vivi come puoi, con le tue forze, vai da specialisti, fatti aiutare, ma lascia perdere la fede. Grazie a Tommaso che come noi è stato incredulo perché non aveva visto Gesù stesso e i suoi segni sul suo corpo, Gesù ha detto beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Fratelli e sorelle, oggi siamo interpellati dallo Spirito Santo. Vuoi fare un passo nella fede? Vuoi fare un passo in avanti e credere, avere fiducia in Dio? invochiamo lo Spirito Santo insieme per allontanare la cidia dalla nostra vita, questa pigrizza spirituale, questa tristezza spirituale che ci accompagna nell'incredulità e le diciamo vieni Spirito Santo abbiamo bisogno di te. Spirito Santo entra nella nostra vita, entra nel mio cuore, io ti ricevo oggi Spirito Santo e ti chiedo di donarmi la fiducia nel Padre, quella stessa fiducia che tu hai in Gesù Cristo e nel Padre. Spirito Santo entra in me oggi perché io possa credere pur senza vedere, donami anzi occhi di fede che sanno vedere in ogni situazione della mia vita che Dio interviene, che Dio apre una porta, che Dio ne chiude un'altra. Spirito Santo fammi vivere bene, fammi vivere al massimo affinché la fede in Gesù Cristo possa trascinarmi in situazioni meravigliose dove io sperimento i Suoi miracoli. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è una continuazione di ciò che i discepoli hanno detto a Tommaso abbiamo visto il Signore. Noi vogliamo dire abbiamo creduto nel Signore. Questa è la nostra fede donata dallo Spirito Santo. Buona giornata a tutti voi affinché i vostri occhi possano vedere che Dio è vivo ed è in mezzo a noi. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao. Parla, Signore Perché il tuo servo ascolta Parlami, Signore Ti ascolto Ti ascolto per avermi accolto. Per avermi accolto. Per avermi accolto. Grazie per avermi accolto. Grazie per avermi accolto.